ragazze buongiorno allora questo è un video richiesto da voi appunto siccome chi è che mi segue sa che sono anche una wedding planner chi mi segue come me ha la figlia o il figlio che si sposa e quindi che succede che sempre in casa degli sposi dei appunto dei genitori si fa un tavolo con una bella tovaglia con qualche simbolo del matrimonio tipo questo tool che ho io per praticamente accogliere gli invitati quelli che vorranno fare un regalo in busta quelli che vorranno che ne so magari non sono invitati al matrimonio fanno un regalo minore fanno un regalo così diciamo meno impegnativo e quindi giustamente dove si devono mettere questi regali dove si devono mettere queste buste con i soldi che appunto regalano gli invitati bisogna allestire per forza di cose un tavolo allora che cosa non deve mancare in un tavolo allestito così per i regali naturalmente da non confondere col tavolo della confettata che non c'entra nulla da non confondere con il tavolo che noi andremo ad addobbare nelle location per la cena questo è un tavolo che deve appunto simboleggiare il matrimonio dei nostri figli e che deve accogliere qualche regalo allora come l'ho pensato io questo tavolo tra l'altro io lo dovrò fare pure perché mia figlia il 14 settembre si sposa quindi anch'io dovrò allestire un tavolo la richiesta che mi è arrivata è una o più mamme che hanno i figli maschi che si sposano però voglio dire le differenze sono minime allora che cosa non deve mancare anzitutto io credo che tutte abbiamo una tovaglia di quelle belle di quelle preziose di quelle con i ricami particolari che ci hanno fatto le nostre mamme ecco allora noi dobbiamo utilizzare una tovaglia così in questo caso io ho messo questa che mi ha regalato che mi ha fatto mia madre nel corredo che è costata tanti soldini e che ha un ricamo spettacolare e quindi che cosa ho fatto ho messo questa tovaglia poi ho messo questo tool come vedete è un fiocco è un fiocco con appunto tutto di tool con qualche riporto così in argento quindi diciamo già questo ricorda un po il matrimonio poi che cos'è che non deve mancare secondo me secondo me non devono mancare mai su questo tavolo dei bei fiori freschi e insieme ai fiori freschi possiamo mettere anche qualche mazzo di fiori finti come questo che praticamente mi ricorda proprio quasi un buchet da sposa con queste peonie finte poi che cosa ho immaginato poi ho immaginato appunto delle persone che vengono a portare una busta con i soldi queste non sono buste facciamo finta che siano buste naturalmente dove si devono poggiare prendiamo una bella ciotola io in questo caso ho preso questo bel piatto d'argento e ci poggiamo appunto le buste che riceviamo in regalo quindi le mettiamo qua io vi auguro di riceverne tantissime e che appunto non basti un piatto ma che insomma che dovrete prendere poi vassoi altre cose poi ho immaginato di qualcuno che regala anziché fare il regalo in busta regala un pezzo d'argenteria e quindi che cosa è successo cosa ho messo ho messo questo piatto che è un piatto in argento che possiamo appunto ricevere poi ho messo questa potiche bianca di porcellana bianca perché magari mi capita la mia vicina di casa che non è invitata al matrimonio ma mi vuole fare un pensierino in questo caso mi ha fatto questa potiche bianca e ho immaginato appunto per rendere il tavolo più bello e più magico questa superficie di specchi questi sono quattro specchi che io ho unito e ho messo il regalo della mia vicina ho messo un mazzo di fiori finti che sembra quasi un bouquet è una candela che fa sempre atmosfera nel caso appunto di mia figlia oppure nel caso di della mamma di una sposa c'è sempre una un gioiello che c'è una collana di perle naturalmente io qua ho messo cose questa è una collana di bigiotteria però considerate che si può esporre se appunto il promesso sposo fa un bel solitario si espone se ad esempio qua da noi in sicilia si usa che la suocera fa gli orecchini alla nuora orecchini di perle con diamanti come in questo caso che ho messo io quindi possiamo esporre la collana gli orecchini nel caso di un uomo appunto questa signora mi chiede che si sposa suo figlio non lo so può ricevere dei bei gemelli da mettere per il matrimonio può ricevere un fermacravatta ecco queste sono cose che si possono inserire tranquillamente nel tavolo in modo che gli invitati appunto che vengono a portare un pensierino che vengono a portare la busta possano anche vedere questi regali preziosi e qua per esempio c'è un bracciale qua ci sono un paio di orecchini che sono cose di mia figlia che naturalmente non apro però così vi do l'idea quindi una bella tovaglia se non abbiamo una tovaglia di queste preziose e possiamo mettere anche una semplice tovaglia purché sia bianca e poi possiamo comprare un po di tool non è difficile ragazze comprare un che so del tool a metro e lo possiamo mettere qui appunto possiamo fare un torcion di tool e lo mettiamo così tutto intorno al tavolo possiamo comprare dei fiori finti quindi ce ne è tanti fiori finti che io adesso non ho però l'avevo porca miseria non ce l'ho più erano dei fiori finti piuttosto lunghi e tipo a cascata ecco possiamo fare anche un gioco di questi fiori finti e quindi ragazze non ci vuole molto naturalmente questo è un tavolo che io non ho aperto il tavolo si può ingrandire magari appunto per quando ci sarà il matrimonio di mia figlia lo aprirò lo ingrandirò però dico vi ripeto dobbiamo metterci le buste se appunto gli sposi scelgono il regalo in busta quindi munitevi di ciotole di vassoi dove appunto gli invitati potranno mettere la loro busta con dentro il loro pensiero se invece poi avete magari vicini di casa del palazzo o qualcuno appunto che non viene al matrimonio e decide di fare un piccolo pensiero dovete naturalmente anche dare agio di posare poi il regalo anche perché chi verrà vedrà i regali fatti anche dalle altre persone questa è una cosa importante è una cosa che chi è che fa un regalo ci tiene a vedere e quindi spero di aver aiutato queste mie amiche che mi seguono che mi hanno chiesto appunto come realizzare il tavolo per le case degli sposi quindi della sposa o dello sposo come vedete è molto semplice io l'ho fatto con quello che avevo in casa l'importante è creare un po' di atmosfera mettere un po' di tulle una bella tovaglia bianca non fare mancare dei fiori freschi o mettere anche per esempio una bella orchidea bianca le orchidee sono molto belle sono molto eleganti sono molto d'effetto e poi appunto se abbiamo se il nostro figlio riceve un gioiello appunto che ne so i gemelli il fermacravatte o un bracciale esponiamolo perché è bello perché stavo dicendo scusatemi perché così appunto tutti gli invitati potranno vedere i loro regali e i regali degli altri invitati allora vi ripeto spero di essere stata esaustiva di avere dato così un piccolo aiuto un piccolo mio contributo a queste persone che hanno questi eventi felici in famiglia allora vi ripeto